Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nuovo video Oggi andiamo a vedere una carta dei V-Jump Quindi quella patata incredibile che stiamo vedendo mangiare da Light Il che significa che lo Sturcrudeck di Jackadlass è sempre più vicino Perché come avevamo detto potrebbe essere messo in questo V-Jump E si potrebbero avere informazioni dal 21 aprile o forse anche prima Prima di iniziare come sempre ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima di un esempio aggiornati con il mondo di Yugi Grazie mille, mi raccomando è importante Per arrivare a questi 3600 entro aprile, grazie mille E andiamo a vedere cosa fa questo Mystic Potato Se questa carta sul terreno era distrutta da una carta mandata dal cimitero Possiamo specialare un mostro d'arc con 1500 di attacco o meno dal deck In posizione di attacco, eccetto lui Non male dai, diciamo che se te lo utilizzi un po' alla Unshade E te lo spacchi con gli effetti delle carte Per poi ritegrare l'effetto Potrebbe essere interessante come soluzione Almeno non deve essere distrutto in battaglia Almeno non deve essere distrutto per forza dall'avversario Quindi è un tubero che potrebbe essere utilizzato in diversi modi Magari può trovare spazio in diversi deck Quindi dai, l'effetto ci potrebbe stare Niente di sbroccato come potevamo aspettarci Però insomma potrebbe essere utile E parliamo di OTS OTS che usciranno ovviamente il 19 luglio Con i nuovi OTS 22 Che potrebbero salvare una carta L'unica carta sbroccata che è stata apprezzata da tutti Ovvero Branded Fusion Perché sarà inserita, come annunciato qui Sarà inserita la Branded Fusion Ultimate Una delle tre, quindi sarà appunto la fusione marchiata Il che ci fa pensare a Branded Fusion salvata alla Banded Nì, perché sappiamo che comunque potrebbe essere colpita Magari non la leva, no? Per metterla a due, magari Sappiamo che comunque Dà un po' di fiducia vederla Magari stampata qui in Ultimate Una reprint Ultimate importante Però insomma sappiamo che Potrebbe comunque non essere salva Ma è una menzione in più Perché appunto Utilizza la Branded Fusion Per evocare le carte Albats Che usciranno anche in Cybersome Access Come Despia e Branded Quindi diciamo che Una spintarella per tenerla a tre Anche perché io ripeto Non c'è motivo di toglierla Al momento non c'è motivo di toglierla Poi vedremo cosa succederà Detto questo ragazzi Fatemi sapere ovviamente voi Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Tipo Grazie a tutti